La Fetta 2000 del Dio Zio Volevo presentarvi Ruggero che è diventato anche un amico adesso Ruggero Ruggero è un professore, è un collezionista, un amante, un appassionato diciamo il cliente ideale dal punto di vista commerciale se vogliamo dire ma colui che ha fatto della propria passione un museo, un teatro Ruggero possiede 70 modelli di Alfa Romero la sua prima vettura che ha aiutato è stata la 956 l'ultima che ha comprato, ancora che la dobbiamo consegnare per cui la N-Ring dovrà ancora arrivare ci ha messo a disposizione la Giulia T-Super che è di sotto e la S-Z quindi una persona che potrà raccontarvi molte storie e molte curiosità e molte vicende che lo riguardano e che riguardano il nostro cliente quindi per qualsiasi curiosità, per qualsiasi chiacchierata che vorrete far con lui lo abbiamo a disposizione, è una persona fantastica, gentilissima e sempre disponibile e saprà trasmettere anche quella cifra di passione che lo caratterizza da tutti questi anni vediamo a noi come sarà Grazie mille Grazie mille Grazie mille